Ok, test del green screen. Ciao ragazzi siamo tutti live, salutate gente Non vi si sente, non vi si sente, non so perché, il gioco ha deciso, no, OBS ha deciso che non vi dovete sentire E tanto non te sentono, non te si registra No, la cosa bella è che tu hai detto sta cosa e sto usando solo, quindi potresti fare una brutta fine Sì ma è di fiamme, dai ragionaci Vabbè sto soltanto testando il green screen Sì stanno tipo in mid i nostri Versailles Madonna la skin di Chirone Ciao lupetto Ma vi serve un solo ora che vi do starachno, vi serve un solo un mid qualcuno il team Dai guarda che culo quella scadi Se tassi un basic magari raga Uh è easy game easy life proprio E allora perché non me lo fai giocare a me che lo devo masterare Sì ragionaci è sbloccabile in rank at 6 E niente Aria l'alti de scilla Avevo voglia di urtare a caso Ti dico ancora non l'ho provata Scadi Madonna quanto so scarso Madonna quanto so scarso Madonna quanto so scarso E bacio bacio che hole E' lupo morto Lupo luscio è diventato Vabbè Nerf de lupo tipo Eh ma la uno dei scadi è qualcosa di legale Sixa Cioè apparentemente No no apparentemente c'ha l'animazione dell'impale Però ti impala letteralmente perché c'ha uno scaling troppo alto Eppure vero e c'è Ma è utile perché spesso Mari scioppi qualcosa per sbaglio Magari Eh quando sbagli il rank da uppare De capi è utile Sì che le ho fatte Perché sei scemo Tu non supporti la community italiana vedi c'è Vergognati No poi vai guardare i video di ciccio gamer che sbusta le figurine e si fa le pippette Pure io No pure io de qua Eh certo l'ho presa io Sono sol Sono sol Sono solamente sol E non c'ho l'ultimo Eh non c'ho l'ultimo Non è bugga di signa che fa schifo letteralmente Ma sono morto pure io però Dov'ha Six dimmi tu dove vado Oddio se mi salvo qua oddio cioè Oddio Va vabbè no dai 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 Che cazzo ne so Io stavo scappando vulcano all'improvviso ci ho ripensato e non mi ha più inseguito C'è pure se C'è pure se non vi si sente raga Io sto video lo carico soltanto perché Per prestazione C'è solo prestazione Ha cappellato male E beh Eh vai la madonna No però mi sta piacendo il fatto del green screen Mi sta proprio a fomentare il green screen Ogni tanto premo all tab per guardare Figo Comunque È come Tarsk No vabbè ma L'avevo già detto nelle patch notes Che comunque c'era degli scaling troppo alti È quando gli usi la due Quando usi la due insomma Che fa un male boia È arriva gialli che chi stilla l'universo Ma sto shilla da un'uscita Shilla insane proprio Dai come faccio ad avere 7 assist con soul Dai Oh vabbè vabbè St'amico tu è geniale Comunque Eh era geniale Bene Un po' Sì Six No a sto punto sì Cioè che cazzo si stai facendo lì Six Tu torna a casa Six Dietro scadi Cioè dietro scadi Hai dietro scadi Che corri siamo 3 contro 2 Arriba a chirona a destra Se il lupo attacca anche la torre Six Six ma tu che cazzo Perché sei in quel team Adesso le domande sono serie Quello cos'era l'escape più brutto dell'universo Tipo Perché sgommo Comunque abbiamo un team un pochino tra yard Appena appena Mo l'ho notato No no Sei proprio triste Jolly Ma l'ulti Guardate l'ulti di coso È tipo sbilanciata Troppo sbilanciata Fai questo Tira 4 miri e premi 4 volte 1 Fai prima Tanto il resto Sì ok È utile quello che ti pare Ma i danni arrivano da quello Come ti ha ammazzato la fenice Eh la madonna Eh che devo fare Voi giocate la 4 contro 3 È normale Vabbè Si fanno la torre loro Tipo now Ma no Ma no Ma no Ma no Ma hai visto No dovevi vedere il volo che ho fatto Jolly in questa quanto Ti devi andare a vedere il video dopo Devi vedere il volo che ho fatto Affanculo Jolly No sto rosicando Perché praticamente La fibra arriva a 50 metri da casa mia Ma non a me Ma arriva a casa della mia ragazza Che abita fuori città Capito Perché sto con fast web merda Jolly ma Io so 5 No So 6 partite che faccio Il ping è sempre stato sui 60 Te? Eh pure Pure secondo me hanno sistemato L'avevo detto Ma io pure Io pure Hanno sistemato il fattore di routing Secondo me Hai visto quanto levi Joe C'è scritto Mentre fai danno Punto C'è quello che c'è scritto No 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 Vabbè Arriva a 6 Il sistema Tutto Il KS dal cane Il KS dal cane Sto gioco Prende 6 Non serve più a niente Fate giocare il lupo da solo Raga Vabbè Comunque Comunque il nostro Ares Io non l'ho visto Mezza volta in partita Ho più 15 fantasy point Dai si inizia Si che l'ho comprato È normale È normale È shoppato oggi A presto A presto A presto A presto Grazie.